A Reims l'Ungheria gioca contro la squadra delle Indie orientali olandesi. Questa rappresenta Asia e Oceania ed essendola più lontana dalla Francia in termini di chilometri simboleggia il carattere universale della competizione. I suoi calciatori sono volenterosi ma inesperti e devono inchinarsi sei volte ai campioni ungheresi per i quali l'incontro è poco più di un allenamento. Come da pronostico le Indie orientali olandesi ricevono una lezione di calcio e vengono eliminate.